Gli audio racconti, serie Il giallo inglese, l'inchiesta di Lo Elieo, letto da Adami. La memoria è una cosa strana. Riesco sempre a ricordare con precisione una grande quantità di dettagli poco importanti. Quanti uomini sdraiati di seguito occorrono per circondare la terra. Il numero esatto è 23.549.115. Oppure che una pertica equivale all'incirca a 5 metri. Queste e molte altre cose non le dimentico mai. Mentre nelle occasioni in cui posso svignarmela a Londra, ed essendo io un medico di campagna sono piuttosto rare, immancabilmente lascio a casa la lista della spesa, ed è solo quando il treno sta ripartendo dalla città che mi tornano in mente gli strumenti che intendevo acquistare. Presi al volo l'espresso da Stanton mentre usciva sferragliando dalla stazione, e atterrai in grembo a qualcuno. Le mie scuse furono accettate. Era un uomo di una certa età, curato, dall'aspetto ordinaria. Sapevo di averlo già visto prima, ma benché rammentassi che i maggiori prodotti esportati dal borneo settentrionale erano riso, saguo e pepe, non riuscivo a ricordarmi dove avevo incontrato quell'uomo. Trent'anni passati a svolgere lo stesso impiego, ad abitare nello stesso sobborgo e a leggere lo stesso quotidiano, ti danno la stessa faccia, magra e un po' anemica, con gli occhi dell'azzurro sbiadito di una camicia lavata molte volte. D'estate e d'inverno, sempre con l'impermeabile e l'edizione serale del giornale. Era una serata fredda e nebbiosa, la tipica rigida sera di gennaio che l'incongruenza del clima inglese produce a metà ottobre. I finestrini erano appannati per il calore dello scompartimento e io, appoggiato allo schienale, riprendevo fiato chiedendomi dove avessi già visto quell'uomo che mi stava di fronte. Un alto colletto immacolato gli sorreggeva il mento e lui stava ritto sull'orlo del sedile. Improvvisamente diede un colpo di tosse. Era più un vezzo che una vera tosse, perché era chiaro che non avrebbe giovato alla sua gola. In quel momento ricordai che ci eravamo incontrati una sera di due anni prima in occasione dell'inchiesta del coroner a Langley-Hebby. Quel giorno, durante gli sporadici silenzi in sala da pranzo, avevo notato piccoli dettagli in mezzo alla grande eccitazione. Ricordo l'ombra degli olmi sul prato, il gracchiare dei corvi e, nella stanza, il cigolio degli stivali del poliziotto e la tossetta secca dell'impiegato dello studio legale, mentre con chiarezza e concisione, rendeva la sua trascurabile ma necessaria testimonianza. L'unica cosa di Langley-Hebby che fa pensare ad un'ambazia è la finestra di vetro colorato del bagno, perché il resto è una di quelle solide, squadrate, di more d'epoca georgiana. Il suo parco è incantevole. Io sono praticamente cresciuto lì insieme ai due ragazzi. Neville, perciò conosco il posto come le mie tasche. Quando furono entrambi uccisi nel 1917, il vecchio Sergei Neville vendette tutto così com'era a John Antish. È curioso come il carattere di un luogo muti a seconda del suo proprietario. Sotto i Neville Langley era una dimora accogliente. I suoi cancelli erano sempre aperti, così come le porte e le finestre con le loro tende di mussola che ondeggiavano allegramente al vento. Nel parco dell'abbazia si tenevano feste del villaggio ed essa era parte della vita e delle chiacchiere di tutti i paesi circostanti. Con John Antish ci fu un cambiamento. Sergei venne pregato di informare la contea che i nuovi proprietari non amavano la vita di società e dunque si auguravano che la gente si astenesse dal far loro visita. I cancelli del parco furono chiusi e tali rimasero. Le finestre furono sbarrate e le tende di mussola rimasero immobili, senza vita. La casa prese un aspetto arcigno e austero. Le uniche persone che vi facevano visita erano il postino e i fornitori e gradualmente Langley Hebby uscì dagli annali e dalle conversazioni della contea. Quanto a me, essendo stato escluso dalla casa che era stata una parte così importante della mia vita, ogni volta che mi recavo a Madeleine per le vene varicose di Miss Stoughton o per curare il signorino Willie Twinger, evitavo di guardare i cancelli del parco, come chi passa davanti a un cane un tempo affettuoso il cui temperamento è diventato instabile. Questo per un decennio, finché un pomeriggio di quattro anni fa trovai un messaggio in ambulatorio in cui mi pregavano di andare subito all'abbazia. Dopo quel giorno ci andai regolarmente, almeno tre volte alla settimana. Scoprì che la casa, probabilmente per indifferenza, era stata lasciata esattamente come ai tempi di Neville. L'atrio era vasto e si estendeva per tutta la larghezza della casa, ovvero le porte finestre che si aprivano sul prato fronteggiavano il portone d'ingresso. Il pavimento era più lucido di quanto ricordassi e c'erano meno luci. Il mobiglio era brutto ma solido, per la maggior parte in stile vittoriano. Due lunghi tavoli, un cassettone di quercia, alcune rigide sedie e un gong birbano. Sulle pareti erano appese diverse corna di cervo, qualche ritografia raffigurante i primi martiri cristiani, tra cui un San Sebastiano allegrissimo e in ottima forma, con circa una quarantina di frecce nel corpo. Una trota di nove chili che Sergai aveva pescato in Scozia, e un arazzo piuttosto bello. Il vecchio Entish aveva trasformato quello che un tempo era il salottino di Lady Neville in una camera da letto con bagno. La stanza accanto, che prima era un soggiorno, adesso ospitava una splendida biblioteca. Entrambi i locali erano ampi, con soffitti alti, e avevano porte e finestre che si affacciavano sul prato. Lui viveva praticamente solo in queste stanze, e le lasciava di rado. Nonostante avesse fiducia in me come medico, mi detestava, come detestava costantemente chiunque altro. Era senza eccezione il più antipatico e scontroso vecchiardo che avessi mai conosciuto. Posso dire che l'unico piacere che traevo dalla sua compagnia era quello di ficcargli il lago nel braccio. In breve tempo esaurì la scorta di infermire da Londra, e io riuscì infine a convincere Miss Mavy, del villaggio di Medley, ad accettare il posto, visto che per quindici anni aveva accudito una madre invalida che, quanto a sgradevolezza, avrebbe potuto dare punti persino al vecchio Entish. Nessun uomo poteva vivere a lungo nelle sue condizioni, giacché, oltre ai problemi di cuore, soffriva di cirrosi epatica, ma siccome aveva paura della morte, mi dava ascolto, e con trattamenti, dieta e farmaci, la sua salute migliorò. Certe donne hanno un chedi inquietante. Sono anni che Miss Stoughton è relegata a letto, eppure è una di quelle donne la cui cugina, immancabilmente, conosce la zia del tizio assassinato. Stavolta, la nipote della cameriera di sua cognata aveva sposato il figlio del soprintendente delle cartiere Entish in Ontario. Come la maggior parte delle persone, Miss Stoughton ha un profondo disprezzo per l'accuratezza dei dettagli, ma fondamentalmente le sue informazioni sono sempre corrette. A quanto pareva, Entish aveva dilapidato sette diverse fortune nei suoi primi 40 anni di vita. I numeri sono di Miss Stoughton. Era stato l'uomo più dissoluto di Londra e anche di Buenos Aires, dove lo standard è più alto e la concorrenza più spietata. Era duro, rapace e avido di potere. Non c'era uomo nella sua cartiera o nella sua miniera d'oro che non sarebbe stato contento di vederlo bruciare all'inferno. «E questo», concluse Miss Stoughton, «lo ha preso praticamente dalle labbra del soprintendente». L'atteggiamento di Miss Stoughton verso Dio è un po' quello di una zia orgogliosa. Vede chiaramente ogni disegno ed è spesso un passo avanti agli altri. Quando la salute di John Entish deteriorò, il suo atteggiamento fu quello di una persona i cui consigli sono stati ascoltati, perché Miss Stoughton crede fermamente che il peccato si paga. Sapeva, per esempio, che le sue vene varicose le erano state inflitte per metterla alla prova. Prendete il famoso caso di Giobbe. Le considerava quasi come un complimento, applaudiva lo sforzo di Dio di essere imparziale e lo perdonava di frequente. Non seppi mai se Entish sentisse dell'affetto per suo nipote. William era il suo erede e, naturalmente, litigavano per questioni di soldi, fra le altre cose. Ma penso che la causa non fosse tanto la disapprovazione, quanto il senso di potere che il vecchio provava nel vedere il nipote avvampare quando minacciava di sospendergli l'assegno mensile, che era piuttosto generoso. Le specialità di William erano le donne e le corse di cavalli. Credo che fosse attraente in un certo qual modo che definirei cupo e sinistro. Aveva ereditato tutta l'antipatia dello zio sviluppandola con idee proprie. Di tanto in tanto veniva all'Engley Hebby ed era solito trattenersi per due o tre giorni. Così la vita trascorreva placida e tranquilla. Talvolta, dopo aver visitato Entish, scendevo alla rimessa delle barche, giacché il prato declinava fino a un lago contornato di salici rossi. E restavo lì, seduto a ideare diete fantastiche e disgustose per il vecchio. Poi, un pomeriggio, ricevete una telefonata da Miss Mavy, l'infermiera. Dottor Mellon, oh dottore, per favore venga subito. Mr. Entish è morto. John Entish era morto per un'overdose di morfina sciolta in un bicchiere di sale ammoniacale. L'inchiesta si tenne quella sera stessa nella sala da pranzo di Langley Hebby. Mr. Duffy, il coroner, era seduto con l'agente Perker al tavolo, mentre il personale della casa era in fondo alla stanza. Mr. Duffy si soffiò il naso e l'odore di stick al mentolo sul suo fazzoletto, si mescolò con quello di cuoio e sottaceti della stanza. Girò gli occhi lucidi verso Crusher, il maggiordomo. «Sono tutti presenti?» chiese. «Tutti tranne Mr. William Entish, signore. Non è ancora rincasato. Grazie. Chiami il dottor Mellon». La mia deposizione non durò a lungo. Storia della malattia di John Entish, causa del decesso e così via. Poi toccò a Miss Mavy, che, ritenendo di essere sotto accusa, esordì con una splendida ringa difensiva, fornendo ben sette diversi alibi per quel pomeriggio. «Lei asserisce?» le domandò il coroner. «Che la morfina che talvolta lei iniettava al defunto per alleviarne la sofferenza, veniva tenuta sull'ultimo ripiano dell'armadietto dei medicinali, e che portava sull'etichetta la scritta «Morfina» ben leggibile. «Esatto», rispose Miss Mavy come se stesse interpretando il ruolo della protagonista nel film «Il processo di Mary Duggan». «Tutti le diranno lo stesso». «Mi risulta che l'anta dell'armadietto sia di vetro. Il flacone di sale ammoniacale e un bicchiere erano su un tavolino sotto l'armadietto contenente la morfina». «È corretto, Miss Mavy?» Miss Mavy impallidì, consapevole che tutto ciò che diceva sarebbe stato usato contro di lei. «In un certo senso, sì». «In un certo senso?» «C'è anche un cucchiaino sul tavolo», ribatté Miss Mavy, determinata a non tenere nascosto nulla. «Questa medicina, il sale ammoniacale, veniva presa dal defunto a intervalli regolari». Miss Mavy ponderò la cosa. «Era forse una trappola?» «No, signore, solo se il dolore lo coglieva all'improvviso», rispose con aria circospetta. «Quando il dottor Mellan ha espresso l'opinione che la morte non era dovuta a cause naturali ma ad un'overdose di morfina, lei è andata a controllare in bagno. La fiala, che quando lei aveva finito il suo turno, era nell'armadietto e conteneva venti grani di morfina. Era sul tavolino, vuota, accanto al sale ammoniacale. È esatto?» «Il dottor Mellan mi ha chiesto di controllare quando si è accorto che la morfina era stata messa nel bicchiere insieme al sale ammoniacale. Giuro su Dio onnipotente che non ho toccato nulla». «Mr. Entish aveva l'abitudine di prendere da sé il sale ammoniacale». «Sì, sì, signore, se non c'era nessuno nella stanza per poterglielo somministrare». «Miss Mavey, lei è d'accordo col dottor Mellan che la morfina non è stata presa accidentalmente?» «No». «No? Dunque lei ritiene che possa essere stata presa accidentalmente». «No, sì, voglio dire che sì, sono d'accordo che non possa essere stata presa accidentalmente». «È tutto, grazie». Miss Mavey, sentendo ancora su di sé l'ombra del capestro, fu scossa da un tremito, sospirò e prendendo in prestito lo stick decongestionante del coroner, si lasciò cadere su una sedia inalando profondamente. Dopo fu il turno di Crusher, il maggiordomo. «Lei asserisce», disse il coroner, «che stamattina, quando Mr. Entish ha ricevuto il telegramma, ha mostrato segni di irritazione». «Ciarissimi, signore». «E che cosa ha fatto?» «Ha chiesto se Mr. William era in casa». «E c'era?» «No, signore, era uscito in auto alle nove e mezza». «E poi?» «Mi ha detto di andare all'inferno e di portare con me il suo dannato nipote. Ma prima, signore, ho dovuto chiamare al telefono Truebridge and Day». «I suoi avvocati?» «Esatto, signore». «E poi?» «Mi ha incaricato di mandare l'auto alla stazione per incontrare il treno del lune 45. I suoi avvocati avrebbero inviato qui un impiegato dello studio». «E al suo arrivo, costui è stato accompagnato direttamente in biblioteca, giusto?» «Sì, signore». «A quel punto che cosa è accaduto?» «Dopo una quindicina di minuti, Mr. Entish mi ha convocato in biblioteca e mi ha chiesto di controfirmare come testimone un nuovo testamento». «E dopo aver firmato?» «Mi ha dato le solite istruzioni di andare all'inferno, signore». «Dopo di che mi risulta che non è successo nulla fino alle quattro e mezza del pomeriggio». «Esatto, signore. Il rappresentante dello studio legale ha lasciato la biblioteca a pochi minuti dopo di me. Avevamo l'ordine di non disturbare mai Mr. Entish fino alle quattro e mezza, ora in cui Miss Mavy era solita svegliarlo. Oggi il campanello della biblioteca ha suonato insistentemente e quando sono entrato, Miss Mavy mi ha informato che Mr. Entish era morto. Sono rimasto nella stanza fino all'arrivo del dottore». Venne chiamato l'impiegato dello studio. «Stamattina il suo studio aveva ricevuto istruzioni telefoniche di stilare un nuovo testamento». «Sì, signore. Al suo arrivo lei è stato accompagnato in biblioteca. Che cosa è accaduto?». «Ho letto Mr. Entish la nuova stesura, che lui ha approvato apportando una sola modifica. Quindi ha chiamato il maggiordomo ed entrambi l'abbiamo controfirmata». «Qualcosa nella sua condotta poteva far pensare che contemplasse il suicidio?» «Difficile a dirsi, signore». «E dopo la firma del testamento?» «Sono rimasto con lui una decina di minuti perché desiderava discutere di un problema di tasse. Poi ho lasciato la biblioteca per andare a sedermi in giardino dove, come mia abitudine, sono rimasto fino all'ora di recarmi in stazione». «Dunque lei era già stato qui, per la stessa ragione?» «Generalmente sì, signore». «Mr. Entish aveva l'abitudine di cambiare il suo testamento?» «Sì, signore». «Spesso». «Sette volte negli ultimi dieci anni, signore».» «Ci fu un attimo di silenzio. Poi venne richiamato il maggiordomo. C'era un appunto sulla scrivania di Mr. Entish. Twiller e Dwight, giovedì alle dodici. Può spiegarmelo?» «Si tratta dei suoi sarti, signore. Mi aveva incaricato di chiamarli affinché mandassero un addetto alla prova domani a mezzogiorno». «Quando glielo ha chiesto?» «Stamattina a colazione, signore». «Quindi a colazione non stava chiaramente contemplando il suicidio. Era di buon umore o di cattivo umore?» «Mr. Entish non era mai giulivo, signore, ma mi pareva normale». «È stato solo dopo aver ricevuto il telegramma che il suo umore è peggiorato allora?» «Sì, signore». «Mr. William è arrivato da Londra ieri sera, esatto?» «Esatto, signore. Le è sembrato che fosse in rapporti cordiali con lo zio?» «A cena ho avuto l'impressione che fosse un po' nervoso, se posso permettermi di dirlo, signore, ma che si sforzasse di mostrarsi affabile». «E dice che oggi è stato fuori tutto il giorno?» «Oh, sì, signore. È rientrato nel pomeriggio, ma poi è uscito di nuovo». «Nel pomeriggio? E a che ora?» «Beh, signore, ho notato la sua auto nel viale quando ho attraversato l'atrio per andare a controfirmare il testamento. Erano circa le due e mezza, ed era ancora posteggiata là fuori quando Miss Mavy ha suonato per chiamarmi. Ma quando una quindicina di minuti dopo ho aperto il portone d'ingresso per far entrare il dottore, non c'era più. Nel silenzio, l'odore di sottaceti si fece più intenso. Le nostre sedi escricchiolarono all'unisono. D'improvviso a tutti era venuta la stessa idea. «Mr. William, sapeva del telegramma?» «No, signore, era già uscito quando è arrivato». Un altro silenzio. «Dunque non sapeva che Mr. Entish intendeva modificare il testamento, o che Mr., Mr., insomma, il suo avvocato avrebbe inviato qui un impiegato dello studio. No, signore, non lo sapeva». La gente è strana. Vede un uomo per vent'anni fino a conoscere a memoria la sua faccia, i suoi vezzi, le sue idiosincrasie. Ma nel momento in cui sente che la moglie lo ha lasciato, o che costui ha sparato alla madre, è capace di fare ore di attesa pur di dargli un'occhiata. Praticamente tutti noi presenti all'inchiesta avevamo visto Mr. William Entish frequentemente negli ultimi due anni, alcuni anche da più tempo, e nessuno di noi aveva mai fatto molto caso a lui. Ciò non di meno, quando in quell'istante udimmo sbattere il portone d'ingresso e dei passi eccheggiare sul lucido pavimento dell'atrio, tutti i nostri occhi si girarono e si fissarono sulla maniglia della porta di Mogan. Sapevo con certezza che lì c'erano persone, in particolare il maggiordomo e Dio stesso, che avrebbero considerato piacevole una giornata solo per il fatto di non aver incrociato Mr. William Entish. Eppure, mentre i passi si avvicinavano, il silenzio della sala era tale che il ronzio di un moscone solitario sembrava il rombo di un aereo. Tutti ci sporgemmo in avanti facendo di nuovo scricchiolare le sedie. Poi restammo immobili. I passi si fermarono, la maniglia si abbassò e le nostre sedie ripresero a scricchiolare. Non so quale cambiamento ci aspettavamo di vedere in William Entish, ma ricordo un vago senso di delusione nel constatare che era esattamente come l'ultima volta in cui l'avevo incontrato. Quando lo informarono della morte dello zio e delle circostanze in cui era avvenuta, sembrò sorpreso. Mi sono sempre chiesto perché i magistrati e i coroner fanno le domande che fanno. Mr. Duffy conosceva William bene quanto me. D'inverno, nella stretta strada del villaggio, era stato spesso spruzzato di fango dall'auto di quel giovanotto e, malgrado ciò, passò il successivo quarto d'ora a chiedere conferma della sua identità. Le domande sembravano non avere mai fine. William Entish aveva come sempre l'aria di chi poco gradisce l'odore di coloro che lo circondano, ma rispondeva in tono pacato e privo di emozione. Disse di essere rientrato a casa poco dopo pranzo e di essere andato alla rimessa per le barche, dove era rimasto finché l'orologio delle scuderie non aveva battuto le quattro e mezza, dopodiché era tornato a casa con l'intenzione di vedere suo zio, che a quanto sapeva a quell'ora sarebbe stato sveglio. Tuttavia non era entrato da lui, poiché la porta della biblioteca era socchiusa. L'agente Perker, lo stenografo ufficiale dell'inchiesta, stava annotando diligentemente e mise un grugnito per segnalare che il ritmo era troppo veloce per lui e che le domande dovevano cessare per dargli il tempo di mettersi in pari. Quindi il coroner riprese. Lei dice che attraverso la porta socchiusa ha sentito Miss Mavy telefonare al dottor Mellon, giusto? Ma perché ciò l'avrebbe trattenuta dal far visita a suo zio? Ho pensato che avesse avuto un altro attacco e che probabilmente non volesse vedermi in quel momento. Mi risulta che lei non fosse qui, all'arrivo del telegramma. Quale telegramma? Il coroner si rivolse a Perker. Agente, per favore, legga ad alta voce il telegramma. Per prima cosa l'agente finì di mettersi in pari, poi ci fu un rullo di tamburi mentre si schiariva la voce. Telegramma indirizzato a John Antish, Langley Hebby, Langley, Contea di Norfolk. Il soggetto si è segretamente sposato con Miriel Demar, ieri alle due del pomeriggio, presso l'ufficio di Stato civile di Duke Street. Attendo istruzioni. Ross. Tutti i nostri occhi erano fissi su William Antish. Lui si irrigidì un po' e le sue tempie presero a pulsare. Quando l'agente Perker riprese il suo posto al tavolo, l'oliera che vi stava sopra vibrò come un treno in corsa. «Questa informazione è corretta, Mr. Antish?» «Sì». «Non sapeva che suo zio la facesse sorvegliare?» «No». «Presumo che si sia sposato in segreto perché sentiva che la scelta di Miss Demar non sarebbe stata approvata da suo zio. È così?» William Antish ha Rossi. «Mio zio era un uomo difficile. Disapprovava qualsiasi cosa che non fosse stata decisa da lui. Mia moglie era una ballerina di fila, ma dopo un po' sarebbe venuto a più miti consigli, come sempre. E nel frattempo?» «Mi avrebbe proibito di mettere piedi in casa per un mese o due, immagino. E l'avrebbe diseredata?» «Probabilmente. E se lui fosse morto prima di averla inclusa di nuovo nel testamento?» William Antish sorrise. «Oramai questa mi pare una contingenza remota, no?» L'agente Perker sbuffò, irritato, poiché andando ad orecchio, preferiva parole che già conosceva. «Allora non ha mai visto questo signore?» Mr. Duff indicò l'impiegato dello studio legale, che diede un colpetto di tosse. William Antish lo guardò, poi si rigirò verso il coroner. «Non che io sappia. Chi è?» «Su istruzione di suo zio, è stato inviato qui da True Bridge and Day, i suoi avvocati, con un nuovo testamento.» William Antish si voltò di scatto verso l'uomo. «Mio zio ha firmato?» «Sì, signore. Posso chiederle il contenuto del nuovo testamento?» L'altro si schiarì la gola, rivolgendo una domanda silenziosa al coroner, il quale rispose con un cenno affermativo del capo. «Mr. Antish ha lasciato il suo intero patrimonio ad una associazione per la ricerca sul cancro.» «E nel testamento precedente?» chiese il coroner. «Lasciava tutto a suo nipote, William Antish.» Mentre l'impiegato parlava, William Antish rimase in silenzio, ma le sue tempi avevano ripreso a pulsare. Per caso, incrociò lo sguardo della cuoca. La donna stava chiaramente guardando un uomo che aveva ammazzato il proprio zio. Credò che solo allora lui si sia reso conto del pericolo che stava correndo. Sapeva che suo zio avrebbe disapprovato un matrimonio che con ogni probabilità non sarebbe rimasto segreto a lungo. Conosceva il suo precario stato di salute. Aveva spesso preparato per lui la soluzione di sale ammoniacale, ed era al corrente della morfina. Doveva solo entrare in biblioteca dal giardino. Sapeva per esperienza che, disturbandolo nel bel mezzo del pomeriggio, il vecchio si sarebbe arrabbiato al punto da farsi venire un attacco, e lui, come aveva già fatto in precedenza, sarebbe andato in bagno a prendere il sale ammoniacale, ma stavolta con l'aggiunta di una generosa dose di morfina. Forse era rimasto lì ad osservare con curiosità lo zio che ingurgitava la soluzione. Aveva visto le chiazze violacee comparire sotto gli occhi, poi, prendendo un libro, se ne era tornato tranquillamente alla rimessa. Forse si era persino seduto a leggere, finché l'orologio delle scuderie non aveva battuto alle quattro e mezza. Il coroner parlò. «Mr. Antish, lei asserisce di non aver lasciato il giardino prima che l'orologio battesse le quattro e mezza». Fino a quel momento William Antish aveva risposto alle domande prontamente e con una certa indifferenza, ma ora le sue risposte si fecero più esitanti e ponderate. Era già sulla difensiva. Ci sporgemmo tutti in avanti per meglio udire le sue parole. «Sì». «E non si è avvicinato alla biblioteca per tutto il pomeriggio?» «Esatto. Però avrebbe potuto, e senza essere osservato. Non è così, Mr. Antish?» «Suppongo di sì, ma ripeto che non l'ho fatto». Il verso di disgusto della cuoca, e che già nella sala, che era diventata quasi buia, oramai eravamo solo delle sagome indistinte. Un venticello freddo scompigliò le note dell'agente Perker, mentre l'orologio delle scuderie batteva alle otto. «Quindi, Mr. Antish, abbiamo solo la sua parola, che è rimasto nella rimessa per tutto il pomeriggio». Temo di sì. Ci fu una pausa di silenzio. D'un tratto, l'impiegato dello studio si schiarì la gola e parlò. «Quanto Mr. Antish afferma a riguardo i suoi movimenti è esatto. Posso confermarlo io». Subito dopo aver lasciato il vecchio Mr. Antish, sono andato a sedermi sotto il cedro, aspettando l'ora di recarmi in stazione. Ho notato il giovane Mr. Antish che fumava nella rimessa. Non penso che lui mi abbia visto, ma ha dichiarato il vero. È rimasto lì finché l'orologio delle scuderie non ha battuto l'ora. La natura umana è strana. Anziché provare un profondo senso di gratitudine per il fatto che le mani di un uomo non si fossero macchiate del sangue di un suo simile, credo che tutti in quella stanza, tranne forse il coronel, che intravide la possibilità di tornarsene finalmente a casa a fare un bel bagno, si sentirono delusi. Probabilmente perché a chiunque possedesse un certo senso del dramma, appariva chiaro che William Antish era perfetto nel ruolo del cattivo. Alto, con i baffi neri, grandi denti bianchi e un modo di fare aggressivo. Le sue mani avrebbero dovuto macchiarsi del sangue di suo zio. Era giusto così. Gli si confaceva. Quanto a me, dato che, come il resto dell'umanità, preferisco pensare il peggio del mio prossimo, ritenevo che, se non avesse ammazzato lo zio, era solo perché non gli era venuto in mente. Dopo esserci ripresi dalla delusione, Crusher accese le lampade a gas e le domande, innumerevoli e interminabili, ricominciarono. L'inviato dello studio non aveva nulla da aggiungere. Poteva solo confermare di aver visto Mr. Antish nella rimessa per tutto il pomeriggio. Fu richiamato il maggiordomo e così pure Mr. Mavie, sempre guardinga, oltre al sottoscritto. Emerse di nuovo la questione della morfina. Non è possibile che Mr. John Antish insistesse per tenere la morfina a portata di mano, chiese Mr. Duffy alla sala in generale, non solo per le sue proprietà antidolorifiche, ma anche perché aveva in animo di compiere un atto autodistruttivo. L'agente Perker posò la matita. È un tantino complicato per me, signore. Posso scriverlo con parole mie? Vuole dire che potrebbe essersi accoppato, giusto, signore? Le domande e le risposte continuarono, ma il peso della deposizione di un testimone totalmente disinteressato, come l'impiegato dello studio, era schiacciante. Così, quando Miss Mavie dichiarò che il vecchio si era spesso espresso a favore dell'autodistruzione, credo che lei se lo augurasse per se stessa, il coroner, mentre l'orologio delle scuderie batteva le nove, emise un verdetto di suicidio per insania. Non vidi se in sala da pranzo William Antish avesse parlato con l'inviato dello studio, ma so che, torvo in volto, attraversò l'atrio come fosse deserto. Passò davanti ai domestici e al resto di noi senza degnarci di uno sguardo o di una parola e richiuse sbattendo il portone d'ingresso. Si sentì il rombo della sua auto. Se n'era andato. La presenza della morte rende strano un luogo. Mentre sostavamo in gruppo accanto all'ingresso, facendo programmi per il giorno seguente, l'atrio sembrava freddo e senza vita. Le nostre voci avevano un suono sordo e le finestre assomigliavano a tanti occhi neri e freddi, perché le tende non erano state tirate. Uno spiffero da una porta aperta gonfiò la razza e il vecchio satiro ritratto si sporse amorevolmente verso Miss Mavy. Lei fissava ancora la porta da dove era uscito William Hantish. Immaginate perdere una fortuna. Tutti quei soldi sprecati in beneficenza. Trasse un sospiro e estarnutì. L'impiegato dello studio posò la borsa e l'aiutò ad infilarsi il cappotto. Non andranno sprecati, mormorò. Quando un'auto si fermò davanti al portone, il coroner sbirciò l'orologio e si rivolse a quest'ultimo. Penso che sia la macchina che la porterà in stazione. Grazie per la sua testimonianza. Temo che avremo ancora bisogno di lei, quindi la contatterò fra un paio di giorni. L'altro prese la borsa, l'impermeabile, e il cappello. Sono a sua disposizione, signore. Buonanotte a tutti. Il fischio della locomotiva mi svegliò di soprassalto. Dovevo essermi appisolato per un paio d'ore, perché il treno si stava già avvicinando a Cranham Junction. La schiena mi doleva per essere stato troppo a lungo nella stessa posizione. L'impiegato dello studio sedeva ancora rigidamente di fronte a me, i guanti allacciati sopra i polsini e la borsa accanto. Mi sporsi in avanti. Non si ricorda di me? Dissi. Certo, signore. Lei è il dottor Mellon. Ho avuto il piacere di incontrarla all'inchiesta di Langley Happy. Diede un colpetto di tosse. So che la proprietà è ancora in vendita. Sì, ora è deserta. Passo spesso da lì. Sa. Conosco quel posto da tutta la vita. Sbadigliai. Quindi la fortuna del vecchio Antish è effettivamente andata tutta in beneficenza. Mi chiedo perché il giovane William non abbia impugnato il testamento. Aveva degli appigli. L'umore instabile del vecchio. Il suicidio per insania. Immagino che temesse di essere ancora accusato di omicidio, signore. Fu solo la mia parola a scagionarlo. Solo la mia parola fra lui e un'accusa di omicidio con un valido movente. Dicono che si è andato all'estero. Sì, signore. In Sud America. Sua madre gli ha lasciato una piccola proprietà in Argentina. Se la passa bene a quanto ne so. Mister Truebridge, il capo del mio studio, dice che per lui è stata una benedizione. In effetti, se avesse ricevuto i soldi se li sarebbe sicuramente giocati. Dissi. Quel ragazzo prometteva di diventare duro ed egoista come suo zio. Eh, è buffo. Nonostante abbia modificato il testamento così spesso, ho sempre pensato che il vecchio Entish volesse che alla fine i soldi andassero al nipote. Credevo che soprattutto provasse piacere a spaventare William. Come un senso di potere, signore. Già. Sembrava nauseato all'idea di fare del bene. Che cosa bizzarra. Detestava l'umanità, eppure sarà ricordato come uno dei suoi grandi benefattori. Tutti quei soldi alla ricerca sul cancro. È strano che nessuno abbia mai notato che non si può vedere la rimessa per le barche dall'albero di cedro. I salici nascondono la vista. Mi sono spesso chiesto se lei abbia premeditato il tutto o agito d'impulso. Le luci tremolarono mentre il treno attraversava una galleria. L'uomo si schiarì la gola. D'impulso, signore. Nel mio piccolo sono uno studioso di letteratura e mi ha sempre colpito il fatto che non è considerato un lieto fine se i soldi vanno in beneficenza anziché al giovane erede dissoluto. Un'alternativa da evitare a tutti i costi. il libro che sto leggendo parla di un testamento andato perduto. Al momento l'eroe è ammanettato ed imbavagliato su un molo deserto. E la marea sta salendo giusto? Rapidamente, signore. Ha tre ore per trovare un certo documento altrimenti allo scoccare della mezzanotte la fortuna della zia andrà in beneficenza. E lei sa che lo troverà in tempo. Sì, signore. Gli avrebbe dato un finale diverso? Sì, signore. Mi sono sempre chiesto come le venne l'idea. Dissi. Lui tossicchiò. Mister Entish aveva chiaramente i giorni contati, signore. Mentre firmava il testamento pensai che sarebbe stata una buona cosa se fosse morto prima di cambiare idea. Sapevo che altrimenti sarei tornato all'Engley Abbey di lì a poco e con un nuovo testamento di nuovo in favore del nipote. E conoscendo molto bene quest'ultimo ero certo che solo lui e i suoi allibratori avrebbero tratto beneficio dall'eredità. Somigliava troppo allo zio, signore. Il vecchio Entish immagino cominciò a parlare di William e montò in collera per la storia del matrimonio segreto. Questo avrà provocato uno dei suoi attacchi. Sì, signore. Il suo viso diventò paonazzo e le labbra si sbiancarono. Restai a guardarlo con la speranza che gli fosse fatale. Mi disse di versare in un bicchiere la medicina che stava sul tavolino del bagno e che le istruzioni erano sul flacone. io sono leggermente presbite, signore e ci misi un po' a trovare i miei occhiali da lettura. Quando li inforcai la prima cosa che attirò la mia attenzione fu la fiala con la scritta morfina e mentre lui inveiva contro di me dalla biblioteca aprì l'armadietto presi la fiala e versai il contenuto nel bicchiere insieme a quello del flacone. Mr. Entish mi strappò il bicchiere di mano. Idiota disse e mandò giù la medicina. La ingoiò troppo in fretta per accorgersi di qualcosa suppongo. Trasse un profondo respiro chiuse gli occhi e si appoggiò allo schienale della poltrona. Io rientrai in bagno e cancellai le mie impronte essendo questa a quanto mi risulta la procedura corretta in caso di omicidio. Quindi tornai in biblioteca raccolsi le mie carte e le riposi nella borsa. Mr. Entish era perfettamente immobile non so se respirasse o meno. Dopo essermi accertato che fosse tutto in ordine uscì nell'atrio chiudendo piano la porta alle mie spalle. Chiamai Mr. Crusher e lo informai che sarei rimasto in giardino fino all'ora di recarmi in stazione. Il vecchio è tranquillo? mi chiese lui e io risposi affermativamente. Non le venne in mente che William Entish poteva essere accusato del crimine? No, signore il fatto che il testamento non era in suo favore sembrava escludere tale eventualità. Non sapevo che fosse ignaro della mia presenza all'Engley Hebby e del motivo che mi aveva condotto lì e lo vide davvero nella rimessa per le barche. No, signore dovevo essermi appisolato. Mi arrischiai a confermare la sua versione perché mi sembrava il meno che potessi fare signore. Non prova mai un po' di rimorso. Lui mi guardò sorpreso. Rimorso? I soldi sono andati tutti alla ricerca sul cancro signore. Non ha letto gli ultimi dati. hanno fatto passita gigante. Oh no, signore ho troppo rispetto per la vita umana per provare rimorso. Il treno ebbe uno scossone quando i freni rallentarono la sua andatura e il mio compagno sbirciò fuori dal finestrino. Questa è la mia fermata, signore. Raccolsi il giornale e la borsa. Come il treno si arrestò un facchino spalancò la porta e la nebbia riempì la carrozza. Cranham Junction si cambia per Kedham Stuckley Ray e Wimming si cambia. Cantile no. A bagagli, signore. No, grazie. Rispose il mio compagno e si voltò verso di me. Ho molto gradito la nostra conversazione, signore. Le auguro una buona serata. Non esiste silenzio così assoluto come il silenzio che segue l'arrestarsi di una macchina. Tutti gli altri rumori risultano amplificati. Il sibilo del vapore, lo sbattere dei bidoni del latte, la cantilena del facchino. Si cambia! D'improvviso la locomotiva comincia a vibrare, il treno fa un sobbalzo e le ruote cicolano. Luci verdi a rosse, facchini, donne anziane, impiegati di studi legali per un attimo, si profilano netti attraverso il vetro umido del finestrino. Poi il cicolio delle ruote si fa più ritmico e forte e il treno ti porta via. Via da tutti loro. Gli audio racconti Serie Il giallo inglese L'inchiesta di Lo Elieo Letto da Adami L'inchiesta